Si chiama Abruzzo 2015, l'accordo di programma siglato stamani in Abruzzo, prima regione in Italia, tra Regione e Ministero dello Sviluppo Economico, per attivare risorse, nello specifico 10 milioni di euro, a favore delle reti d'impresa. Le nuove forme di coordinamento, particolarmente destinate alle PMI, che vogliono aumentare la loro massa critica e avere maggiore forza sul mercato, senza doversi fondere o unirsi sotto il controllo di un unico soggetto. E' che in Abruzzo sono già in fase particolarmente avanzata in diverse filiere. Per la sottoscrizione dell'accordo, che verrà attuato dall'ente strumentale Abruzzo Sviluppo, stamani a Pescara è intervenuto il ministro Paolo Romani, che ha sottolineato il ruolo centrale delle piccole e medie imprese e delle loro reti per la competitività del sistema paese. Il nostro tessuto collettivo è fatto di micro, piccole e medie imprese. 4 milioni e mezzo sono la struttura del nostro paese in termini industriali. E ti dico, Presidente, che all'estero, quando ne diamo le delegazioni, il modello italiano è invidiato, perché è il modello che noi possiamo esportare assolutamente nei paesi in via di sviluppo. E' qualcosa di più di un protocollo, è un accordo di programma, è una linea finanziaria che non ha bisogno di ulteriori ratifiche. E' insomma una spinta molto forte per quelle che sono i processi di riconversione del nostro sistema industriale verso l'innovazione. L'Abruzzo è già stato, insomma così è andato sulle pagine nazionali, come la quarta regione d'Italia per finanziamenti e aiuti al sistema delle piccole e medie imprese. In termini relativi sarebbe così, in termini assoluti, cioè se facessimo un confronto, un comparazione in termini percentuali saremmo la prima. Questo è un ulteriore, direi, lavoro portato a termine dall'Abruzzo sviluppo e dall'assessorato allo sviluppo economico, che hanno fatto un ottimo lavoro, siamo la prima regione italiana ad approfittare di questa nuova legislazione che c'è sulle reti d'impresa, che è una fortissima spinta innovativa e che in Abruzzo tra l'altro ha un altro valore, cioè quello di portare le imprese a costituire veramente delle reti e non come si diceva nel passato, si è parlato per sempre di fare sistema, di fare delle reti, però adesso in Abruzzo se uno fa delle reti d'impresa ha un vantaggio sostanziale per finanziare quelli che sono i processi di miglioramento produttivo.